L'evoluzione di 145 anni di storia e se spesso il cambiamento significa crescita, progredire però diventa impossibile, non ricordando il passato. Slow Renzo, storico mercato centrale, questo il nuovo nome del raggruppamento di operatori del piano terra del mercato di San Lorenzo, vera e propria istituzione e cuore pulsante del centro di Firenze e nonché simbolo del caloroso quartiere che lo rappresenta. Noi siamo gli stessi, rimaniamo quelli da sempre, dal passato, rimaniamo sempre il presente e saremo il futuro, ma con un modo di proporci diverso. Noi vogliamo continuare a essere quelli che permettono al fiorentino di fare la spesa. Un'iniziativa a difesa dell'identità, l'attività turistica rischia di snaturare o di far dimenticare a tutti i clienti in visita al mercato. Il mercato centrale è un pezzo tra i più importanti dell'identità della città, del centro storico e insostituibile nella tradizione del rione di San Lorenzo. Le politiche di promozione innovativa rappresentano un'occasione in più per essere protagonisti nel territorio. La parola Slow, che dunque vuol richiamare una riflessione alle radici di un tempo, ovviamente con uno sguardo, forse anche due, verso il futuro. Questo progetto cercherà di tutelare l'identità culturale, il bagaglio culturale che il mercato si porta dietro, rilanciandola nel futuro. Diventare quello che è e ci auguriamo che possa preservarsi nel tempo. Slorenzo è il mercato che ritorna lento, il mercato della gente. Slorenzo è San Lorenzo. Un nuovo mercato dunque che però non smette di richiamare alla lentezza necessaria per lasciarsi trasportare dentro le antiche tradizioni e per rafforzare ulteriormente l'indissolubile legame col quartiere di San Lorenzo. Per chi è residente nel quartiere 1 ora è possibile venire a fare la spesa qui e risparmiare il 10%. Peraltro stanno studiando anche la possibilità di portare la spesa a casa perché è difficile muoversi all'interno del centro e questa è una cosa che io sono convinto sarà largamente apprezzata dai residenti.